Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella raga, sono Orgasmic e sono qui con un nuovo pack opening visto che hanno messo i pacchetti da 100.000 crediti Perciò hanno messo i pacchetti da 100.000, sono due pacchetti, io non ho mai trovato da FIFA 12 niente nei pacchetti da 100.000 Forse l'unica volta è stato in FIFA 13, ho trovato Eto' che ve l'ho venduto a 10.000 Per farvi capire i miei grandi guadagni su questi pacchetti da 100.000 Settimana scorsa, cioè diciamo nell'ultimo video, siamo stati sfigatissimi Sono stato sfigatissimo come avete ben visto Ma ci possiamo rifare in questo nuovo video, continua ad aggiornarsi, non capisco cosa faccia Quindi raga, prima di aprire questi pacchetti lasciate un bel like Speriamo di arrivare a una buona quantità di like E speriamo ovviamente di trovare qualcosa di interessante e non deludente Partiamo subito con il primo pacchetto Buttiamo via 100.000 crediti, è l'ultima giornata dei Toti perché poi finiranno E nel primo pacchetto troviamo Joachim If Un If di Scarprice, era proprio quello che volevo trovare, guardate Quadrado Joachim Kossielni Leno e Menike Tutto sommato Cioè abbiamo trovato Quokin che non vale niente, Quadrado il cui prezzo È decisamente bassino Così è il Ni, ce lo teniamo E Menike lo teniamo E il resto Anche Leno forse E il resto addio Primo pacchetto è andato bene Barra male Vediamo di trovare Di meglio Di meglio Ultimo pacchetto Il video sarà brevissimo perché sono solamente due pacchetti Non ci sono altri pacchi speciali Sì, Ribery Uuuu Oh mio Dio Oh mio Dio Ribery Quanto costa Oh mio Dio Ri Be Ri Frank Ribery 200 passa 1.000 crediti Ci sta Di brutto Ci siamo ripagati il pack opening Tanta roba Sì, 200.000 crediti Ci siamo ripagati il pack opening Subito Diciamo così Abbiamo trovato anche Mata 85 Cerci Drogba Demsei E basta Tutto sommato È andato alla grande Non me lo aspettavo assolutamente Tra l'altro Siamo In mattinata Cioè Sono le 12.30 Secondo me Aprile di sera Almeno per quanto mi riguarda Porta sfiga Almeno per me Porta sfiga Perché non ho mai trovato niente A prendoli di sera Si può dire Quindi ragazzi Il video finisce qui Buona sculata Da parte mia Vi invito Come sempre A lasciare un bel like Un pollice in su 300 400 8000 Mi piace Come volete voi Vi invito A scrivermi nei commenti Cosa avete trovato voi In questi pacchetti Perché sono sicuro Che li avete aperti Se avete trovato Anche voi Come me Buone cose O se avete trovato In pratica Merda Apriamo l'ultimo pacchetto Così mentre Chiudo il video Niente Vi invito a iscrivervi Al mio canale A guardare Coucher Che ci esce In questo pacchetto In pratica Abbiamo sprecato Altri crediti E niente Iscrivetevi Al mio canale Pagina facebook Twitter Instagram Tutti i link Li trovate in descrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Ciao